buonasera permetti signorina prego posso offrirle un calice di vino gradisci no grazie il vino mi dà problemi alle gambe ah si le dà problemi alle gambe si capisco forse gliele fa gonfiare no ne le fa aprire gliele fa aprire mo che fortuna io sono palegname non ti preoccupare signorina che te l'aggiusto io la seratura basta che ci infilo la chiave e vedrà che la seratura sta tutta a posto bevi 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 augur salute bevi a lei